Mentre i giocatori ritemplano il fisico dopo due settimane di ritiro a Lamporecchio e in attesa di iniziare la seconda fase della preparazione che comincia con l'amichevole in programma martedì prossimo al Melani contro il Pisa, il DS arancione Nersolici è impegnato a completare l'organico che il 31 agosto debutterà in Lega Pro. Il lavoro svolto e le amichevoli disputate hanno evidenziato le capacità della squadra che contro Cerbaia, Tavarnelle e Rapallo ha schierato appena il 40% delle potenzialità arrivate dal calcio mercato. Nel Zoricci entro un paio di settimane deve definire la copertura dei ranghi atletici. Per esperienza e capacità sa dove mettere le mani. Fino a questo momento non ha sbagliato alcuna mossa. I 15 acquisti operati fino ad oggi si stanno rilevando pari alle attese. Del Pisa in casa arancione si conoscono le forze dell'avversaria. Pino Vitale ha lavorato benissimo per il team nero azzurro. L'allenatore Braglia sa come comportarsi. Giudizi positivi vengono espressi a favore anche della Pistoese. I tifosi sono ottimisti, apprezzano gli sforzi del presidente Orazio Ferrari e promettono di continuare ad essere vicini alla squadra del cuore. Martedì contro la corrazzata pisana il Melani ospiterà il pubblico delle grandi occasioni. È iniziata in anticipo la prevendita con le piacevole novità della messa in vendita dei taglianti di ingresso dalla biglietteria della tribuna di gradinata chiusa da tempo. I prezzi. 10 euro per la tribuna coperta e per la sud riservata alla squadra ospite. Al botteghino biglietti costeranno 2 euro in più per entrambi i settori. L'undi prossimo intanto al termine della riunione di Lega Pro verranno diramati i due gironi e il calendario delle partite di Coppa Italia. Grazie. Grazie.